come scegliere il trasduttore giusto per le proprie esigenze e si trasduttori non sono tutti uguali ovviamente ognuno ha le proprie caratteristiche le proprie esigenze e dobbiamo saper scegliere il trasduttore migliore per quello che serve ovviamente a noi per il tipo di pesca che facciamo ma non solo anche per il tipo di barca che abbiamo la motorizzazione che abbiamo ci sono tanti parametri a cui noi dobbiamo fare molta attenzione perché sennò rischiamo di prendere di scegliere un prodotto sbagliato per noi in questo video parleremo dei vari modelli di trasduttore che esistono sul mercato per quanto riguarda i tipi di installazione sono fondamentalmente 5 abbiamo l'installazione di poppa passante con firing il firing è quella accessorio che vedremo nello specifico quando tratteremo quel tipo di installazione dopo c'è il passante a filo cioè con il trasduttore che va a trovarsi a filo dello scafo l'interno scafo quindi non occorre bucare la carena ma bisogna costruire una vasca all'interno della nostra sentina e dopo esistono i trasduttori da cavità alcune barche hanno dei vani che vengono costruiti proprio sotto in carena dove possono essere inseriti i nostri trasduttori ma iniziamo con ordine proprio con i più comuni direi trasduttori di poppa innanzitutto bisogna dire che non vanno bene per tutte le barche vanno bene per le barche che hanno i motori fuori bordo perché tutte le barche che hanno i motori entrobordo devono per forza usare un altro tipo di trasduttore devono usare invece i trasduttori passanti o da interno scafo in quanto la turbolenza delle eliche creerebbe tanto di quel disturbo che non sarebbe possibile proprio vedere nulla sul nostro ecoscandaglio parliamo dei trasduttori di poppa sono fatti in plastica vengono posizionati sullo specchio di poppa sul canale trovate un video di un'ora e mezza che ho fatto con marco scippa dove vi spiego proprio tutte le tecniche esatte per fare nel modo corretto l'installazione del trasduttore che non deve essere fatto assolutamente sul patino della nostra carena perché il patino porta le bollicine d'aria e se vanno a finire in corrispondenza del trasduttore ovviamente questo non funzionerà più ma indipendentemente dall'installazione che come ho detto è un video a parte parliamo un attimo delle caratteristiche allora innanzitutto vanno bene per le barche piccole medio piccole anche medie condizione essenziale come vi ho detto prima non dobbiamo avere nessun tipo di motore entro bordo perché altrimenti le turbolenze non ci permetteranno di vedere nulla sono fatti in plastica vengono posizionati sulla linea sul filo carena non vanno bene per le barche con le con tipo i gozzi che hanno diciamo il lo specchio di poppa arrotondato perché anche in questo caso avremmo problemi di turbolenze trasduttori di poppa possono avere diverse potenze dai 300 watt della tm 150 m fino anche a un kilowatt come la b 260 o la b 265 lh sono trasduttori che hanno le stesse caratteristiche fisiche di trasduttori con le stesse sigle che vengono inseriti in carena quindi una b 265 lh ha gli stessi elementi all'interno di una tm 265 lh quando troviamo la lettera b davanti la sigla questo si intende per un trasduttore che è passante quando abbiamo la lettera tm vuol dire che il trasduttore è costruito per essere installato a poppa un trucco per installare i trasduttori di poppa nel punto migliore è quello di andare ad osservare la scia della barca quando siamo in planata cerchiamo di metterli in una posizione dove la scia è più con l'acqua scura non chiara acqua scura vuol dire mancanza di bollicine acqua chiara vuol dire presenza di bollicine d'aria come abbiamo detto prima le bollicine sicuramente non sono una cosa buona per le sonde perché interrompono il fascio di ultrasuoni e quindi l'ecoscandaglio perde il contatto con il fondo la seconda tipologia di sonde sono le sonde passanti che possono essere di diversi tipi sia passanti con fari in blocco e queste sono adatte per le barche medio medio grandi e anche molto grandi o passanti a filo e queste vanno bene per le barche medie medio grandi le passanti a filo non sarebbero indicate sulle barche molto grandi perché le barche molto grandi quando navigano portano comunque uno strato di piccole bollicine d'aria sotto la carena e queste passando sopra la nostra sonda che si trova appunto a filo e disturberebbero il segnale quindi sulle barche molto grandi è sempre preferibile mettere la sonda col far in blocco una cosa anche importante da valutare e la resistenza che fa nell'acqua il far in blocco non è vero che non fa nessun tipo di resistenza ne fa e questa è logaritmica nel senso che è molto più forte molto più accentuata quanto la barca è più veloce se noi abbiamo una barca che viaggia fino ai 20 22 nodi la resistenza tutto sommato è ancora accettabile comunque c'è se la barca fa oltre i 25 nodi si comincia a sentire si perdono sicuramente uno due o anche più nodi di velocità massima e si ha anche un aumento di consumo di carburante allora quando si devono installare sonde su barche molto veloci è molto meglio metterle a filo il far in blocco che viene fornito quando si compra la sonda nuova serve per poter fare l'installazione con giusto corretto diciamo angolo della sonda rispetto al fondo che deve essere montata sempre parallela all'orizzonte quindi il far in blocco tagliato con un certo angolo ci permetterà di raccordare l'inclinazione della nostra carena rispetto alla nostra sonda quando montiamo queste sonde stiamo attenti di non avere davanti prese a mare o altri altre strutture sulla carena che potrebbero essere anche per esempio degli step perché anche questi portano a turbolenze e bollicine anche due sonde con far in blocco messa una davanti all'altra non vanno assolutamente bene un'altra cosa di cui bisogna che bisogna fare attenzione se noi abbiamo un'installazione con i motori fuori bordo di non metterla in linea con i motori con uno dei motori o il motore in quanto la turbolenza che viene generata in questo caso dalla sonda andrà a influire con l'acqua che arriva sull'elica del nostro motore questo ci farà aumentare i consumi e le prestazioni generali della barca cerchiamo di montare questi far in blocco con le sonde in una zona abbastanza vicina al centro carena spostati di 30 40 50 centimetri ma non tanto di più proprio per evitare di avere troppo l'effetto del rollio sullo schermo e soprattutto cerchiamo di evitare di avere un attrito sulla carena troppo spostato lateralmente rispetto il centro barca che porterebbe sicuramente un problema di navigazione poi ci sono le sonde a filo sempre passanti che hanno più o meno le stesse esigenze delle sonde passanti che abbiamo visto prima il vantaggio qui è che la resistenza nell'acqua è molto bassa lo svantaggio è che non si trovano di tutte diciamo le misure in gradi ci sono sonde 0 12 gradi o 20 gradi noi dovremmo cercare di acquistare la sonda che più si avvicina alla nostra carena se abbiamo una carena per esempio di 13 14 gradi di denrys cioè di inclinazione nel punto dove noi andiamo a montare la sonda acquisteremo una sonda 12 gradi se la nostra carena è molto più inclinata e arriva per esempio a 18 22 gradi acquisteremo la sonda da 20 gradi attenzione nell'installazione la sonda ha una freccia installata disegnata internamente questa freccia va sempre rivolta verso il centro barca e non verso la prua le sonde con far in bloc di solito hanno bisogno di due fori sulla carena uno serve per una vite di sicurezza in modo che in caso di con di contatto con qualche altro corpo estraneo la vite protegga il trasduttore e soprattutto non permetta al fare in bloc di girare il secondo foro è dato proprio del gambo del trasduttore questo è un foro sui 40 50 mm a seconda del del trasduttore che andiamo installare se montiamo invece le sonde passanti a filo dobbiamo già prevedere un foro molto più spesso anche di 80 90 mm il terzo tipo di sonda sono quelle che possono essere montate interno scafo generalmente possono essere montate tutte le sonde interno scafo facendo delle piccole modifiche strutturali però prima di montare la sonda all'interno del nostro scafo dobbiamo essere sicuri che lo scafo abbia alcuni requisiti la carena dove va a leggere la sonda non deve presentare bollicine all'interno quindi quando è stata stampata deve essere stato fatto un buon lavoro meglio se sottovuoto si possono fare comunque dei test si prende una borsa d'acqua si mette dentro un trasduttore si chiude la borsa e con questa borsa noi andiamo a cercare il punto migliore dove la nostra vetroresina e non presenta delle inclusioni d'aria e quindi legge molto bene il fondo il valore di resistenza che da questo strato di vetroresina questa è la prima domanda che viene sempre fatta non incide tantissimo sulla lettura dell'ecoscandaglio considerate che perderete circa dal 5 al 7 all'8 per cento massimo di prestazioni questo vuol dire che anche vetroresine molto spesse parliamo sull'ordine dei due centimetri o più non perdono più di 7 8 per cento quindi è un'installazione che si può fare abbastanza in sicurezza poi c'è un altro tipo di installazione che è quella che viene fatta all'interno carena che è l'installazione che io preferisco va bene praticamente su tutte le barche a patto che si possa fare il lavoro il lavoro deve essere fatto da un resinatore e la sonda viene incassata praticamente all'interno della carena ma con il lato sensibile a contatto con l'acqua è un'installazione molto sicura perché non rovineremo la sonda neppure se passiamo sopra per errore su un troco o qualsiasi altro tipo di ostacolo sulla superficie dell'acqua ed è molto performante perché anche a velocità molto alte la barca continuerà a leggere perfettamente un'altra cosa da sapere è che esistono sonde di materiali diversi ci sono quelle in bronzo, in acciaio, in plastica il motivo per cui vengono fatte le sonde in diversi materiali non è per far cambiare le prestazioni dal punto di vista acustico e quindi del nostro ecoscandaglio le sonde in plastica sono tutte quelle che stanno all'esterno o tranne alcune sonde molto economiche che sono anche passanti ma tutto sommato piccole con le sonde in plastica possiamo fare installazioni su tutti i tipi di barca alluminio, plastica, legno, qualsiasi tipo di barca con le sonde in bronzo possiamo installare di nuovo su tutte le barche tranne quelle in ferro e quelle in alluminio mentre con le sonde di acciaio inox sono state costruite proprio per l'installazione sulle barche in ferro comunque se avete da fare installazioni su barche, chiamiamole particolari, che non siano in vetro resina il mio consiglio è di sempre rivolgersi a un installatore specializzato in quel tipo di installazione e che conosca quel tipo di barca perché si possono incorrere anche seri problemi di corrosioni galvaniche queste sono le cose principali che dovete conoscere quando andiamo a scegliere il tipo di installazione di cui abbiamo bisogno a seconda della barca che voi possedete nei prossimi video cercheremo di capire quali sonde sono le più adatte per il tipo di pesca che andiamo a fare per sostenere questo lavoro vi chiedo un like, un commento e magari anche la condivisione del video grazie e ci vediamo alla prossima puntata